Un'intera città in lacrime è morto questa notte Giuseppe Verrocchi, già primario del reparto di ginecologia dell'ospedale di Sulmone. Il suo cuore ha cessato di battere dopo un brutto male che Verrocchi aveva scoperto appena due mesi fa. Per anni è stato punto di riferimento per il punto nascita dell'ospedale Peligno. È stato primario del reparto di ostetricia e ginecologia, prima dal 1975 al 1979, poi dal 1990 al 2008, fino a quando subentrò l'ex sindaco Paolo Santarelli. In una delle sue ultime uscite televisive, Verrocchi, parlando della sua esperienza, rilanciò il suo progetto di un polo di senologia, ma diede anche una tirata d'orecchia alla politica, era agosto del 2016. L'emergenza ostetica non viene capita dalla politica perché noi abbiamo dei parti che abbiamo a disposizione due o tre minuti per salvare la mamma e il bambino. Parliamo del distacco della placenta, parliamo delle emorragie placentari. Un trasporto con elicottero si impiegherà per organizzare un pronto soccorso in un ospedale più vicino sempre un'ora, un'ora e mezza. Quando invece abbiamo a disposizione due, tre, quattro minuti. A volte abbiamo avuto un'emorragia in reparto, l'abbiamo portata in sala operatoria, in due minuti abbiamo fatto il cesareo. Quindi pensare di togliere l'ostetricia e organizzare un pronto soccorso ostetico richiederà più personale che avere un reparto completo. La notizia ha gettato nell'intero sconforto la città con un biavai di gente che stanno raggiungendo la Camera Ardente. Un uomo e un medico che ha fatto nascere intere generazioni sul Mona non dimentica. Grazie a tutti.